Michele Rigone ci darà una mano ad illustrarvi quelli che sono gli effetti che il giocatore intenzionalmente può dare alla palla. Dobbiamo posizionare le linee del corpo in modo tale che la traiettoria del bastone entrando diversamente davanti alla palla possa imprimere alla palla un effetto di rotazione o verso sinistra qualora volessimo fare un draw o verso destra qualora volessimo fare un fade. Invito Michele ora a prendere posizione per eseguire un draw quindi Michele prenderà posizione in modo tale che la sua faccia del bastone rimanga allineata perfettamente con l'obiettivo finale mentre le linee del corpo vengono posizionate quindi linee del corpo sono spalle, fianchi, ginocchia, piedi, tutte le linee del corpo posizionate verso destra. Il posizionare le linee verso destra farà sì che la traiettoria del bastone diversamente da quello che succede di solito si presenterà leggermente più dall'interno verso l'esterno mantenendo la faccia del bastone allineata con l'obiettivo finale questo ci permette di dare un effetto di rotazione alla palla da destra verso sinistra. Prego Michele. Il secondo effetto che vi presentiamo oggi è l'effetto verso destra, il fade, quel volo di palla in cui intenzionalmente la palla tende a girare verso destra. La tecnica è esattamente la stessa quindi invito Michele a questo punto a prendere posizione per generare un effetto di fade. La faccia del bastone mira sempre l'obiettivo finale mentre in questo caso le linee del corpo sono posizionate leggermente più verso sinistra quindi faccia del bastone all'obiettivo linea del corpo a sinistra. Questo fa sì che l'allineamento del corpo genererà una traiettoria leggermente più dall'esterno verso l'interno con la faccia del bastone che rimane allineata all'obiettivo e questi due accorgimenti generano un effetto di rotazione verso destra. Prego Michele. Beh io direi a questo punto ringrazio Michele e vi assicuro che tutto quello che io ho spiegato lui l'ha fatto in maniera perfetta. Quindi grazie Michele, grazie agli amici di Golmania e arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.